L'applicazione Space App Challenge L'applicazione di GSM L'applicazione di App L'applicazione di App Sì, assolutamente, sembra bello sembra bello per il lavoro di team sembra bello per la progressione e per aver conoscere altre persone sembra bello Deve essere un sacco stimolante sia perché conosci persone nuove sia perché devi proprio metterti alla prova Sono delle applicazioni che vengono fatte dai giovani che sullo spazio Tipo, le creano e poi c'è un concorso e le tre migliori vengono dei premi Ils arrivent le samedi matin e ceux che non hanno fatto l'équipe trovano l'équipe sur place al momento in cui arrivent e si mettono tutti insieme e ils commencent a travailler Ho conosciuto persone fantastiche mi sono messa in confronto con altre culture Si ritrova lo spirito di gruppo si ritrova la voglia di stare insieme di lavorare insieme ai tuoi amici di conoscere nuove persone Ho avuto la possibilità di andare in America e vedere un lancio di un razzo cosa che cioè normalmente non avrei potuto fare Ma diciamo partecipare allo Space Apps mi ha cambiato la vita così smông che ricevono i tempi Grazie a tutti.